E' qua di fronte, è quella, lo riconosco, il bagno, la signora la conosco Ma cosa fa con la pistola? Attenzione, già spuntata una pistola, incredibile Io non l'ho mica mai vista con la pistola Un avventore del bagno sta facendo uso di stupefacenti, incredibile Attenzione Da una monetina alla signora Sono immagini in diretta queste? Povia, il cantante Povia, incredibile Povia? E chi esce nel bagno, attenzione, questo è un documento eccezionale Il bagno per i Village People Il cantante Povia sta lasciando il suo numero di cellulare sul muro Siamo in diretta dal Valschizzo di Milano Sì Attenzione, tanto io mi segno il numero di cellulare di Povia Beh, vabbè, guarda che la signora lo redarguisce, giustamente Siamo sempre in diretta E' la Bariales E' la Bariales E' la Bariales Attenzione, cosa fa? Ma no! Quello che tutti sospettavamo Quello che io sospettavo da anni Incredibile Bariales Si frega i soldi Ma si pulisce E' la Bariales